Musica Ben ritrovati con il notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 1 aprile. Le contrattazioni allungano il passo con un leggero aumento delle compravendite e dei prezzi all'origine. La fiducia dei consumatori negli acquisti è in costante ribasso per la situazione dell'aumento dei costi. C'è tuttavia una certa aspettativa di miglioramento della situazione e questo spinge le trattative. Nel primo grafico è evidenziato l'aumento medio dell'1,2%. Diamo ora uno sguardo ai prezzi sulle principali piazze italiane. Verona minimo 4,30 massimo 4,95. Genova e Imperia minimo 4,05 massimo 4,55. Firenze 4,10 massimo 4,55. Chieti e Pescara 5,5,50. Roma 4,45, 4,70. Bari 4,20, 4,40. Catanzaro 4,4,10. Palermo 5,5,20. In aumento da fine febbraio le quotazioni del biologico sia italiano che dell'Unione Europea. I valori minimi del biologico italiano sono passati da 4,50 a 4,80. I valori massimi da 4,70 a 4,95. Per quanto riguarda invece i valori del biologico Unione Europea, i valori minimi sono passati da 3,90 a 4,60. I valori massimi da 4,10 a 4,75. Stazionarie le quotazioni delle produzioni certificate DOP e IGP. Diamo ora uno sguardo ai mercati esteri. Per quanto riguarda l'Unione Europea, è Creta, in Grecia, con valori più alti 3,50, massimo 3,65. Mentre per quanto riguarda il mercato ExtraWay, abbiamo il Marocco con minimo 3,40, massimo 3,55. Grazie per la cortese attenzione e un arrivederci alla prossima settimana. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Grazie per la cortese attenzione e revisione a cura di QTSS.